Mi hanno raccontato una parcelletta bruttissima Siamo dove siamo? Piazza del Popolo Mi hanno raccontato una parcelletta bruttissima e questi sono i risultati della Nata Bianca di Ventroni che si hanno raccontato è veramente di cattivo buono è veramente brutta però beh... c'entrano i morti insieme a tutti qual'è la differenza? no è veramente brutta non puoi neanche ridere la differenza tra Paparotti e Sabani un giorno cioè dunque cadiamo un velo pietoso dicevo se Roma è diventata un bordello che differenza c'è tra Gigi e Sabani e un prato verde tre metri di terra sai cosa sembra diventata piazza del pop che sembra? sembra un po' piazza di Enamem che c'è? è un patto è un patto lo studente vabbè sono un cibo quando fa sembra piazza di Enamem questo è grazie Bertroni grazie è vero tu sempre sia grazie tu sempre sia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.